Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata alla protesta delle operatrici del servizio di rifezione scolastica a Gela. Il servizio non è ancora partito, chiesto un intervento immediato all'amministrazione comunale. Vediamo. A distanza di quasi un mese dall'ultima protesta ritornano a fare sentire la loro voce le operatrici del servizio di rifezione scolastica a Gela. Questa mattina altro si tina dinanzi all'assessorato all'istruzione in Viale Mediterraneo. Oggi è il primo dicembre e la rifezione nelle scuole ancora non è partita. Perché? L'abbiamo chiesto al segretario della Fircams, Cigelle Emanuele Scicolone. Noi abbiamo saputo che mentre si era concordato, l'amministratore comunale aveva scelto di dare imbroroga all'azienda che aveva fatto l'ultimo giorno del servizio. Addirittura abbiamo avuto contatti come sindacato con questa azienda per fare già le assunzioni. Poi abbiamo saputo invece che per via di un credo a quanto pare l'azienda che aveva fatto il ricorso già l'anno scorso aveva ottenuto un commissariamento del servizio. E il sindaco gli ha proposto di barattare la rinuncia al commissariamento con l'affidamento del servizio. E' una cosa che legalmente si può fare e ad oggi sappiamo che si sta ritardando o comunque è tutto fermo perché mancherebbe un barriere legale dell'ufficio legale del sindaco. Le operatrici del servizio di rivezione scolastica sono stanchi di aspettare. L'amministrazione comunale, hanno ripetito ancora una volta, deve fare in fretta. Noi adesso siamo qua per questo perché stamattina vogliamo delle risposte certe. Non ce ne andiamo da qua semmai loro non ci danno una risposta concreta. Gli altri anni abbiamo iniziato prima, tipo verso la fine di ottobre. Invece quest'anno proprio non era mai successo che noi a novembre-dicembre restavamo fermi completamente. Il ritardo è troppo quest'anno, si doveva migliorare invece quest'anno siamo molto ma molto delusi, nel senso di dire sia dall'amministrazione sia di tutti. Quindi siamo qua proprio per una protesta e non ce ne andiamo. Un'opera incompiuta risalente agli anni 70 che avrebbe dovuto ospitare una scuola si candida a diventare centro servizi alla città. È il progetto presentato dal Comune di Gela nell'ambito del bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri che stanzia circa 200 milioni di euro in tutta Italia per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. L'immobile, del quale adesso permane solo lo scheletro di cemento da adeguare alla norma antisismica, ricade nel quartiere denominato Baracche, che presenta alti indici di degrado sociale ed edilizio, tutti i parametri istat che concorrono alla finanziabilità dell'opera. In breve tempo su un nostro indirizzo e lodevole lavoro effettuato dagli uffici comunali per la presentazione del progetto, ha commentato il sindaco di Gela, Domenico Messinese, un importante segnale per un rione difficile al quale va la nostra massima attenzione. L'area è stata individuata, spiega l'assessore comunale lavori pubblici Nuccio Di Paola, dopo una serie di studi finalizzata all'ammissibilità e finanziamento dell'opera proposta. Siamo fiduciosi, specie per la valenza del progetto, che oltre ad offrire dei servizi alla città, riqualificherebbe un intero quartiere. Per un importo di 2 milioni di euro, il centro servizi alla città prevede l'offerta dei servizi di telesoccorso, dello sportello unico delle attività produttive, di un centro servizi alle imprese, di un centro psicoeducativo di urno e di una struttura multiservizi per immigrati. La pagina della cronaca giudiziaria, 5 arresti sono stati eseguiti a Caltanissetta dai carabinieri in manette, altrettanti extracomunitari accusati di sequestro di persona, riduzione in schiavitù, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La vittima è una ragazza italiana rapita e violentata la scorsa settimana. Vediamo. È una storia di eccessiva brutalità, una di quelle storie che si raccontano e che nella nostra città non sono mai accadute. Una ventenne è stata sequestrata, drogata, violentata e costretta alla prostituzione per numerosi giorni da un gruppo di extracomunitari che sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di riduzione schiavitù, violenza sessuale, sfruttamento della prostituzione e detenzione di sostanze stupefacenti. Si tratta di Krossagai, nigeriano 34 anni pregiudicato, Maghi Stivibbo, nigeriano 31 anni pregiudicato, Laki Okosodo, nigeriano 23 anni, Lorenz Woboko, nigeriano 40 anni incensurato, e Amaise Ojemki, nigeriano di 27 anni pregiudicato. La storia ha inizio quando la giovane è riuscita a scappare dal covo dei suoi guzzini, si è recata dai carabinieri in compagnia della madre e ha denunciato il fatto, raccontando che è stata drogata durante una festa in un casolare di campagna e si era risvegliata in una casa affatiscente del centro storico, dove per giorni è stata ripetutamente drogata, prova ne è il tasso di sostanza stupefacente presente nelle analisi, dalle quali è stata sottoposta. Il racconto della giovane è stato perfettamente riscontrato dai carabinieri che sono riusciti a trovare i luoghi dove si è compiuto il misfatto. La ragazza è stata anche indotta alla prostituzione con altri nigeriani e le somme di denaro ricavate erano tratte dute dai suoi persecutori. Alla giovane, inoltre, sono stati rasati i capelli ad opera di uno dei sequestratori. Solo venerdì pomeriggio la ragazza è uscita a scappare dai nigeriani ed è fuggita con abiti da uomo recuperati in casa. La studentessa, in quei cinque interminabili giorni, non è stata mai lasciata sola dai suoi persecutori e che a turno la controllavano e ne abusavano sessualmente. Appena è riuscita a fuggire, è tornata in libertà. La ragazza si è messa in contatto con i genitori e si è recata in caserma a Stancataldo per raccontare quanto accaduto. In quei giorni i genitori della ragazza avevano ripetutamente cercato di contattarla senza riuscirvi e solo venerdì mattina si erano recati dai carabinieri a chiedere aiuto. All'inizio della scomparsa i genitori non si erano particolarmente preoccupati in quanto la ventenne era solita non rincasare per dormire da amici. Ma con il passare dei giorni la preoccupazione è cresciuta e avevano deciso di denunciare la scomparsa. Una giovane gelese di 30 anni è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale. Vittorio Emanuele ha riportato ferite e probabilmente alcune fratture. I sanitari sono intervenuti dopo che la ragazza è precipitata al suolo dopo un volo da uno dei balconi della sua abitazione. Non sono ancora chiare le cause sul posto. Sono arrivati i carabinieri della radiomobile per effettuare i primi rilievi del caso. Un quintale di baccalà proveniente da paesi scandinavi è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta durante un'operazione di controllo per la tutela della salute del consumatore eseguita con personale della locale azienda sanitaria provinciale. Il prodotto ittico era in precarie condizioni igienico-sanitarie che è stipato alla rinfusa in un magazzino del capoluogo nisseno senza le idonee attrezzature refrigeranti. Secondo le fiamme gialle era pronto per essere venduto a dignari consumatori magari a tratti da prezzi particolarmente bassi. Militari del nucleo mobile della compagnia di Caltanissetta hanno denunciato l'autore della presunta violazione. Un incontro con i rappresentanti della giunta comunale di Gera al fine di mettere in campo tutte quelle iniziative che possano migliorare le condizioni di vivibilità di Manfria si darà domenica prossima alle 10.30 nei locali del 3P all'ingresso della zona balneare. C'è il discorso dell'acqua che non è stato ancora completato per quanto riguarda tutto Manfria c'è il discorso della fogna che era stato promesso allora di Cartacqua che c'era un progetto e che non è stato fatto quindi se noi vogliamo sviluppare per come si parla il discorso del turismo come possiamo sviluppare il turismo se questi servizi che sono servizi di primarità diciamo per quanto riguarda la zona balneare anche perché noi sappiamo benissimo che c'è una crisi enorme una crisi profonda e quindi dobbiamo cercare di dare la possibilità a tanti giovani di essere dei piccoli imprenditori dei piccoli diciamo così gente che si dà da fare per quanto riguarda il turismo il turismo certamente se non diamo i servizi non può assolutamente svilupparsi. i residenti di Manfria non chiedono la luna ma solo interventi immediati lo dice il vicepresidente del comitato abitiamo ormai lì da 35-36 anni e fino a oggi anziché avere servizi i servizi che abbiamo avuto o che avevamo meglio dire sono stati tolti ora anziché incrementarli noi andiamo a regredire si pensa che addirittura per la Fogna che lottiamo tantissimi anni ma non abbiamo visto mai nulla e penso che se non si interessa l'amministrazione comunale a cercare di spingere o tramite i fondi comunitari come vedono loro la via più breve la via migliore quello che sia se non vedono loro di svolgere e di togliere questo diciamo handicap che abbiamo naturalmente non si può andare avanti per quanto riguarda quello che è la questione turistica. Promuovere l'istituzione di un gruppo di lavoro che si interfacci con l'assessorato regionale alla salute al fine di dare attuazione alla legge regionale 5 del 2009 cioè un piano strutturale di interventi sanitari nelle aree a rischio ambientale della Sicilia lo chiede al presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascia e al capogruppo consigliare del Partito Democratico Enzo Cirignotti il gruppo di lavoro secondo quanto previsto dalla legge è composto da sindaci Presidenti dei Consigli Comunali e Manager delle Asp dei territori compresi nei comuni di Gela Milazzo e Priolo Adesso occupiamoci del Flash Mob promosso a Gela dall'Associazione Orizzonte Sentiamo Flash Mob Special Olympics in contemporanea in tutte le regioni di Italia anche Gela ha aderito animando Piazza San Giacomo al fine di dare visibilità alle abilità dei soggetti con disabilità intellettiva e lanciare il messaggio che la loro inclusione è assolutamente possibile Anche a Gela è Flash Mob per l'inclusione sappiamo che da anni a Gela l'Associazione Orizzonte realizza il programma Special Olympics che è un programma per includere i ragazzi disabili nella società sappiamo anche che a Gela è nata la prima squadra di calcio unificato adesso in tutta l'Italia si fa sport unificato anche oggi noi come in tutte le città dove si svolge Flash Mob c'è una testimonianza che la disabilità può essere inclusa nella società non solo nello sport ma anche nella vita quotidiana No dunque all'isolamento no alla emarginazione sì alla valorizzazione della persona umana qualunque siano le abilità di ciascuno un inno alla vita insomma Il gelese Ascanio Carpino è stato nominato dall'Assemblea Nazionale del Sindacato Nazionale Perito Infortunistica Stradale a far parte del Consiglio Direttivo Nazionale dello stesso Sindacato l'obiettivo da raggiungere assieme ad altri consiglieri di varie regioni d'Italia è quello di effettuare tutte quelle iniziative necessarie per la tutela e il miglioramento della professione di perito infortunistica stradale Ogni anno la FIDAPA di Gela in occasione della festa di San Martino organizza degli eventi di solidarietà e servizio a beneficio del territorio quest'anno la sezione di Gela presieduta da Rita Salvo donerà alcune attrezzature ludiche alla scuola di infanzia Madre Teresa di Calcutta Plesso Cantina Sociale questa donazione completerà l'arredo ludico della scuola avviato con il progetto dello scorso anno lo comunica la segreteria FIDAPA di Gela Graziella Condello Città Sarà inaugurato alle 19 il nuovo punto vendita di Cafà Carni Group in Via Venezia 349 a Gela la cittadinanza è invitata a partecipare ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco restate con noi Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale in occasione delle festività del Natale l'unità alzi sotto sezione di Gela sarà presente il 5 il 6 il 12 il 13 dicembre prossimo in piazza Umberto I in Via Palazzi Angolo Via Albania in Viale Corte Maggiore nei pressi dei muretti di Macchitelle davanti alle parrocchie cittadine per la vendita dei presepi di cioccolata il ricavato garantirà alla sottosezione di sostenere le varie iniziative di far rivivere dei momenti di condivisione fraterna ai diversamente abili è attiva da alcuni giorni in Via Italia il numero 17 a Gela la sede Punto Unicef gli orari di apertura sono ai seguenti lunedì mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 giovedì dalle 10 alle 12 i volontari sono a disposizione per qualsiasi offerta da destinare alle famiglie più bisognose accompagnare i giovani al di sotto dei 25 anni in su dalla disoccupazione al mondo lavorativo con questo intento si è svolta nella sala convegni della Banca del Nisseno la conferenza finale del progetto europeo Job Assist un'occasione di confronto sulle strategie occupazionali e sulle politiche volte a promuovere l'occupazione che ha visto la partecipazione di numerosi esperti del settore lo scopo lo scopo di questo progetto è offrire degli strumenti a chi cerca lavoro soprattutto due target specifici che si sono un po' rafforzati tra virgolette in questo periodo di crisi cioè i disoccupati under 25 e over 45 quindi su questi due target stiamo cercando di offrire degli strumenti che consentano loro di entrare meglio nel mercato del lavoro di fatto questi strumenti sono dei manuali che servono a formare questi due gruppi target non solo a formarli ma servono anche a dare la possibilità a loro di capire quali sono le competenze più richieste in questo momento nel mercato del lavoro europeo oggi trovare lavoro è difficile sia perché c'è un problema dal lato diciamo dell'offerta di lavoro però anche dal lato della domanda molto spesso chi cerca lavoro non sa come trovarlo e i servizi che lo dovrebbero aiutare i centri per l'impiego gli altri servizi di politica attiva non sono abbastanza efficienti si è visto che lì dove i servizi che si occupano di politica attiva del lavoro di incontro tra domanda e offerta di lavoro l'occupazione cresce lì dove sono più efficienti lì dove sono inefficienti il lavoro diminuisce allora il nostro progetto in questi due anni ha portato da un lato a fornire degli strumenti a coloro che cercano lavoro e a coloro che in qualche modo si occupano di politica attiva perché ha individuato quali sono le competenze che le aziende cercano le competenze trasversali naturalmente non quelle professionali di saper fare che cercano quando debbono assumere una risorsa dall'altro il convegno di oggi ci dice anche che questo migliorare le competenze delle persone non basta se non ci sono servizi pubblici e privati efficienti che si occupano delle politiche del lavoro la causa fondamentale della crisi che stiamo vivendo è la mancanza di lavoro per i giovani e purtroppo devo dire oggi anche per i meno giovani allora il fatto che vengano qui a convegno esperti della materia anche autorità non solo cittadini ma anche rappresentanti del mondo della politica vuol dire mettere a rete queste istituzioni affinché si possano trovare soluzioni veramente reali per risolvere e lenire questo disagio trentasettesima giornata del donatore si terrà domenica 6 dicembre prossimo nella sala del cineteatro antidoto di Macchitella a Gela promossa dall'ADAS appuntamento alle 16.30 prevista la presenza di Aldo Zino Caligaris presidente nazionale FIDAS e dei cabarettisti S. Giulio Amico e Cristian Abbate meglio conosciuti come fusibili show durante la mattinata alle 8 nel centro di raccolta fisso di via degli appennini numero 5 si terrà una donazione di sangue alle 10.30 nella chiesa Regina Pacis celebrazione della Santa Messa adesso la nostra rubrica in breve vediamo proseguono a Gela gli appuntamenti inseriti nel programma per la festa dell'Immacolata Concezione prevista per martedì 8 dicembre prossimo ogni giorno fino al 7 dicembre nella parrocchia San Francesco d'Assisi sono previste la preghiera del rosario e canto dello stellario celebrazione eucaristica e catechesi animata dai giovani e dai gruppi cittadini oggi alle 18 ocarestia con gli ammalati con abilità diverse il gruppo Emanuele e i volontari dell'Unità Alsi alle 20 e 30 preghiera di lode e di adorazione animata dai gruppi del rinnovamento dello spirito Natale in casa Cupiello si tratta del prossimo appuntamento previsto il 12 dicembre alle 17 e 15 alle 21 e 15 al teatro comunale Eschilo di Gela sul palco Enrico Guarneri la regia è di Antonello Capodici per informazioni il botteghino resterà aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 per informazioni 0 933 91 18 92 oppure 345 58 80 0 580 prenderà il VL 15 dicembre prossimo la stagione teatrale di Cabaret 2015-2016 al teatro Eschilo di Gela protagonisti degli eventi saranno Gianni Nanfa Sergio Vespertino Ernesto Maria Ponte lasciate libero Lo Scarrozzo e Giuseppe Castiglia l'abbonamento per assistere a tutti gli spettacoli costerà 50 euro mentre il singolo biglietto costerà 15 euro il botteghino sarà aperto il venerdì e il sabato dalle 18 e 30 alle 20 e 30 arriva il grande jazz a Gela appuntamento al teatro comunale Eschilo venerdì 11 dicembre Francesco Caffiso in duo con Mauro Schiavone giovedì 17 dicembre Antonella Ruggero venerdì 8 gennaio Francesco Buzzurro e venerdì 29 gennaio Fabio Concato l'inizio degli eventi è previsto per le ore 21 per informazioni bisognerà rivolgersi al botteghino dalle 17 alle 20 per informazioni bisognerà chiamare i numeri di telefono 0933 91 1892 oppure 345 58 80 580 Corri con papà natale sesta edizione si terrà il prossimo 12 dicembre alle 9 e 30 in piazza Umberto I a Gela l'iniziativa sportiva è promossa dall'associazione Green Sport presieduta da Giuseppe Veletti informazioni e iscrizioni al numero 347 57 99 271 proseguono gli appuntamenti in occasione dell'81esima stagione concertistica gelese promossa dall'associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra domenica 6 dicembre prossimo alle 19 a Palazzo Pignatelli concerto del duo Antonella Maria Calle al flauto e Paolo Alongi alla chitarra era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che notizie servizi e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie e arrivederci grazie a tutti 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 grazie a tutti